È un servizio attivo nel nostro territorio da oltre 25 anni, un supporto psicologico importante non solamente per i ragazzi ma anche per le famiglie. È un servizio richiesto perché sono cambiate anche le esigenze dei ragazzi e poi abbiamo visto che si è abbassata anche la fascia di età dei ragazzi che cercano questo tipo di consulenza. Come cambia quindi adesso il lavoro con il nuovo centro e anche quante psicologhe saranno attive all'interno del centro? Le psicologhe attive sono tre e il centro si è spostato di poco rispetto a dove era collocato prima ma la scelta è stata strategica appunto perché l'utenza prevalentemente è quella del campo scolastico e quindi non volevamo far allontanare troppo i ragazzi che eventualmente avevano necessità di questo tipo di servizio. Sicuramente adesso ci sarà la necessità a causa Covid di telefonare, di prenotare, di contattare quindi cambieranno le modalità ma sicuramente non il servizio e la qualità offerta. Da una parte apriamo ma da una parte siamo usciti perché questo servizio da anni lavorava all'interno del campus scolastico, quest'anno a causa logicamente della situazione logistica in cui le scuole hanno avuto bisogno di più spazi per le aule, siamo riusciti a trovare grazie alla biblioteca della circoscrizione Cinque Torri uno spazio vicino alle scuole dove continuare questo luogo d'ascolto. Ripeto, perché è importante in questo periodo? Perché noi non sappiamo bene qual è stato l'impatto sui nostri giovani ma anche sul mondo adulto rispetto alla questione Covid, al lockdown. Stavo riflettendo che due delle situazioni che più spesso le nostre psicologhe vedevano erano il ritiro sociale dei giovani e spesso crisi d'ansia fino ad arrivare a crisi di panico. Bene, in questa situazione, queste situazioni come stanno evolvendo? Si stanno moltiplicando? Molti giovani hanno ritrovato nella loro casa, nella chiusura della loro casa una tana dove rinchiudersi? Oppure il Covid ha fatto esprimere delle potenzialità nei nostri giovani che noi non conosciamo? Ecco, vorremmo accompagnare i nostri studenti, i loro professori e le loro famiglie in questo percorso di sostegno.